bevare il caffettino bevare il caffettino dai mettiamolo pronto? vai bevo io buono ma che brava questa Maria Vittoria tutta diversa dalla Vittoria che conosciamo noi dei Ferragne questa invece è Claudia Dionigi grande amante degli animali quindi sapete chi chiama i cani è amica mia ed era bionda una volta adesso è mora ditemi voi sta meglio mora o bionda aspetto nei commenti secondo me non ve lo dico ciao ciao